Per ora sono qui con l'entusiasmo di un ragazzino perché ho voglia di fare questa esperienza, sono già stato al sud e voi lo sapete sono stato due anni a Caserta, avevo voglia, non me lo aspettavo di essere contattato in questo momento qui, io sono stato tre mesi in Cina, ero appena tornato, onestamente mi ero un po' messo il cuore in pace, pensavo che per me la stagione fosse finita e invece anche perché mancano poche partite, per cui non mi aspettavo questa situazione, però quando Antonello mi ha chiamato l'altra sera, lui è testimone, tempo per decidere, sono stati bastati 30 secondi, so benissimo che la situazione è difficile perché la squadra è in un momento molto difficile, l'ho già toccato con mano stamattina, abbiamo fatto allenamento, una squadra di ragazzi che stanno soffrendo, non avrò tanto tempo perché abbiamo sette partite, una è già fra tre giorni, quindi non è che possiamo fare rivoluzioni a patto che volessimo fare, però non voglio entrare a piedi uniti in una situazione già difficile e complicata per sé, cercherò di portare della serenità se ci riesco, dell'entusiasmo, della voglia di stare insieme, dell'energia positiva perché è evidente ed è palpabile, si sente proprio stando con i ragazzi che è una squadra che sta soffrendo, è come è normale che sia, professionisti che vengono da 10 sconfitte nelle ultime 11 partite, è un momento molto difficile, ci attende una partita delicata con una squadra che sta facendo un bellissimo campionato e mancano tre giorni, quindi dobbiamo pensare solo a quello e pensare di andare domenica in campo con il massimo della positività, ho chiesto ai ragazzi di lasciarsi alle spalle tutto quello che c'è stato fino ad ora, lo so che non è facile ma è quello che dobbiamo riuscire a fare tutti per andare in campo con una faccia diversa, con entusiasmo, con la voglia di giocare insieme e di stare insieme, questa è l'unica cosa che mi sento di dire e che cercherò di fare con tutte le forze da qui al 10 di maggio.